Ogni mercoledì dalle 19 alle 21 sono attivi gruppi online di terapia ermetica collettiva condotti dal dottor Raffaele Fiore. Per info e prenotazioni rimandiamo al link che si trova sotto al video nell'info box o nel sito di Accademia di Psicomedicina dell'Anima. Io quando ero bambino avevo un mito che era quello di Batman. C'è capitato di dover faticare, di dover navigare contro i venti per recuperare qualcosa che era già stato nostro e ci è capitato soprattutto nella nostra vita di capire che le nevrosi, le crisi di panico, che le grandi cadute, che i grandi abbandoni, che quel buio oscuro del pozzo in cui cade Batman quando è bambino, quando ci troviamo persi come Batman nel suo pozzo da solo gli hanno ucciso i genitori e lo aggrediscono i pipistrelli e lui è terrorizzato da questi elementi volanti che ovviamente sono cattivi pensieri, ovviamente sono pensieri oscuri che entrano a volare nei meandri del suo inconscio. Che cosa accade? Che un bel giorno da adulto scopre che il volo dei pipistrelli gli può suggerire qualcosa. Quando lui a un certo punto consapevole del fatto che è la stessa paura che lo domina, che lo abita, che lo tormenta da una vita, quello che potremmo dire una zoofobia, ecco, lo stesso pipistrello diventa il suggeritore del talento e Batman trasforma una nevrosi in un talento senza limiti. E perché mi piace Batman? Perché non ha poteri soprannaturali, è umano, è umano come noi, deve solamente allenarsi, deve acuire i sensi, deve acuire lo sguardo, l'intuito, deve lavorare su quello. Carissimi, ci ritroviamo una volta insieme e scusate se magari ultimamente sono saltato da una modalità di comunicare con voi a un'altra, passando un po' attraverso Telegram, ma credo che oggi mi debba concedere ancora una volta l'opportunità di fare un po' il mio lavoro perché c'è qualche fraintendimento nell'aria che molto probabilmente sta creando più sofferenza di quanto voi pensiate. Quindi devo ritornare un po' a fare il mio lavoro, insomma, anche se nel contesto che adoro, che è quello dell'esoterismo, della libreria esoterica Cavour, però a questo punto secondo me qualche chiarimento va fatto. E va fatto perché il momento, come diciamo tutti quanti, è veloce, è rapido, è drammatico, è intenso e richiede coscienza, coscienza al massimo livello. Quindi non possiamo perderci, capite? Ancora una volta, per esempio, io vi ringrazio di tutto l'interessamento, di tutto l'amore che mi dimostrate e questo ovviamente lusinga una parte di me che è quella egoica, ma io ne ho allenata un'altra molto brava a preoccuparsi molto delle soddisfazioni. Provate a farlo anche voi, a non esaltarvi molto per i successi e neanche per deprimervi troppo per gli insuccessi. La via mediana è sempre la migliore, essere costantemente un po' deafferenziato, staccato dagli entusiasmi e dalle delusioni. Perché tanto ciò che conta è tutt'altro, cari miei, non avere ragione o avere torto. Il fatto di credere di avere ragione o di avere torto, abbiamo visto, riempie le strade di violenza e non serve a niente, anzi rovina, rovina, rovina il dialogo. Comunque non è questo il contesto nel cui mi voglio muovere oggi. Quello invece in cui mi voglio muovere è chiedervi, soprattutto alle persone che si mettono in contatto con me, che purtroppo magari a volte incontrano difficoltà, perché il tempo è poco, il tempo della giornata è poco, il tempo della vita è poco, il tempo è limitato e quindi avendo magari tante richieste è difficile accontentare tutti, per cui non c'è che la precedenza del primo arrivato. E questa è una logica alla quale bisogna comunque adattarsi, altrimenti finiamo per essere un po' bimbi, no? Pensare di avere questa ferita narcisistica se l'altro non si accorge che io sono veramente speciale. Recentemente, per esempio, io ho ricevuto molte strane proposte anche di diagnosi, francamente a me, del tutto sconosciute, no? Sindrome da alta sensibilità, ecco ultima, ma tutti potremmo essere con una sindrome ad alta sensibilità? La violenza, la morte, il tradimento addolorano tutti, sensibilizzano tutti. Nessuno è vaccinato su queste esperienze emozionali, lo sapete, ne lo possiamo fare, perché la nostra vita è proprio capire che crescendo dobbiamo accogliere tutto quello che ci capita, tutto quanto quello che ci capita dobbiamo accogliere. Per esempio c'è un'epidemia in questo periodo che viene ascritta a cause che non gli appartengono in realtà. È stata peggiorata da questa esperienza collettiva del coronavirus e probabilmente anche dalle terapie messe in atto, ma non ha sicuramente solo quella radice, ve lo posso dire con sicurezza, ed è un'epidemia da herpes zoster. Ora, quando qualcuno mi telefona e mi dice c'è qualche rimedio per l'herpes zoster, certo io te lo posso dare, ma se cade nella tua vita così come l'hai organizzata e così com'è, non funzionerà. Prima di tutto se sei per esempio molto infiammato per ragioni alimentari e questa è soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quale è la goccia? E la goccia è la paura, la goccia è la paura cari miei. Cosa credete? Questo virus non aspetta nient'altro, sto parlando dell'herpes e non dell'altro, non aspetta nient'altro come tutti i virus, di trovarci impreparati, di trovarci scoperti, di trovarci totalmente centrati rispetto al centro di gravità permanente. Noi dobbiamo lavorare costantemente se siamo sulla libreria Cavour. Non possiamo prendere come al supermarket i rimedi, lo capite? E quindi c'è il rimedio, altro che, ma ce ne sono tantissimi, dal Rustox all'argentum nitricone, che tutti adesso scriveranno e domani mi diranno, ma allora io potrei prenderlo. Ma sì, ma ti sei esorcizzata dalla paura? Hai curato quest'alta sensibilità che pensi che per esempio i poveretti come noi o come gli altri non abbiano? Sei sicura di essere speciale? Hai finito di definirti? Hai deciso di smettere di definirti? Hai accettato per esempio che quando ti viene un attacco d'ansia, quando ti viene un attacco di panico, non sarà ragionarci sopra che ti aiuterà, non sarà sapere perché. Ma che cosa? È stata una luce? Un vento? Un farmaco che ho preso che non mi fa bene? Una terapia insidiosa? No, è soltanto che continui a definirti e continui a voler essere qualcosa che la tua anima ignora. È questo. Quindi ci vuole non un atto temporalesco, non una tempesta, ci vuole un atto di umiltà. Bisogna sedersi in ginocchio e dire mamma mia, cosa sono? Tocchiamo l'humus, l'umiltà e vediamo cosa sono. Cosa sono? La mia anima cosa mi sta dicendo in questo momento? Ok? E allora per esempio per contattare l'anima noi dobbiamo spegnere completamente la mente razionale. Non è andando a fare una risonanza magnetica o una pet che noi avremo la risposta, ma ce l'avremo nel buio, nel silenzio e nel deserto, lo dico oramai da anni e lo avremo nel momento in cui avremo deciso di non definirci più, soprattutto in quest'epoca. È questa la differenza per capire come affrontare questa grandissima crisi epocale, quella grandissima, grandissima trasformazione che ci aspetta, che non è una trasformazione culturale, politica, ideologica. Lo ripetiamo, lo ripetiamo, l'abbiamo detto qualche sera fa anche con Marco Guzzi. Non è questo, è una trasformazione antropologica. Stiamo cambiando tutto, stiamo cambiando tutto. Ok? E quindi proprio per questo la cosa più difficile è cambiare l'occhio che guardano i stessi. Allora non dobbiamo più definirci e non dobbiamo più cercare le cause. Questo lo diciamo in tanti in Italia. Io appartengo alla scuola di Rizza e voglio dirlo grande che questa è una delle visuali più lucide che si hanno nell'ambito delle conoscenze di quel tipo. Bisogna smettere di definirsi, bisogna smettere di essere speciali con le proprie diagnosi, bisogna smettere di essere impauriti dai dubbi che riguardano le terapie o l'assenza delle terapie. Va a capire e uscire da questa modalità che sta con noi da duemila, tremila anni, forse un po' meno. Credo che la rivoluzione industriale abbia fatto veramente un disastro, il positivismo abbia fatto veramente un grande disastro perché ci ha fatto credere che la nostra mente possa avere tutte le risposte. È qui che i grandi demoni si aprono una bottiglia di champagne. Quindi è molto più utile prendere un olio essenziale di vetivero, un olio essenziale di arancio amaro, un olio essenziale di lavanda e metterla sotto il naso e ricontattare ciò che è sottile attraverso l'olfatto, che è quello proprio che il coronavirus ci in qualche modo richiama proprio con la minaccia all'olfatto a capire quanto lo abbiamo perso l'olfatto. Quando scegliamo un amante, quando scegliamo un marito, quando scegliamo un libro, l'odore della carta, ok? E questo modifica tutta la chimica interna e tutta la neuroormonalità a partire dall'epifisi, l'ipofisi, la tiroide, le ghiandole surrenali, le placche del PIA nell'intestino, tutto risponderà a questo, a questa nostra presenza a noi stessi. E poi guardate bene, una volta per tutte ve lo voglio dire perché i miti della modernità a volte non sono così squallidi, sapete? Qualche giorno fa con Elisa ne parlavamo e lei mi aveva stimolato a fare questa citazione che era uscita durante una delle splendide, meravigliose, ormai mi entusiasmano le serate del mercoledì, quelle di terapia ermetica collettiva, no? Dove stiamo crescendo insieme per capire che cos'è la terapia ermetica individuale, come se fosse un propedeutica, ecco, ha una modalità di che cosa? Di crollo. La terapia ermetica collettiva non ha l'obiettivo di fare qualcosa di diverso, di più moderno, di più adatto, no, 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 no. La terapia ermetica collettiva è la torre dei tarocchi, è l'appeso dei tarocchi e non c'è speranza. Non è che dice, ah, adesso arriva il dottor Fiore con una speranza nuova e quindi ci lo... no! Questa è, purtroppo, è un frammento della nostra storia senza guru, senza maestri, siamo nel buio più totale, quindi dobbiamo cercare i maestri dentro di noi. Dove è Krishnamurti? Dove è Rubindo? Dove è Gandhi? Dove è Paramahansa Yogananda? Dove è Gesù Cristo? Dove sono? Non ci sono, non sono qui in questo momento, è un'epoca priva di maestri, dobbiamo organizzarci molto bene, sapete? Sì, Gesù Cristo è sempre con noi, ma si aspetta qualcosa a sto punto, eh? Tutti si aspettano qualcosa e questo è il momento in cui tirare fuori, quindi non l'alta sensibilità, ma scusate, un attributo maschile che ogni tanto va introdotto nella vita per affrontare con coraggio quello che in determinati momenti ci capita e anche saperlo sopportare, insomma, se ci viene richiesto dalla vita. Altrimenti che diavolo è la vita? Una discesa con una bella televisione piena di pubblicità? Beh, ma ritorniamo ai miti. Per esempio, guardate, io quando ero bambino avevo un mito che era quello di Batman, eh? Ora vi posso assicurare, per esempio, che per noi bimbi il mito dell'antica Grecia Ulisse e Batman appartenevano allo stesso mondo, capite? Appartenevano un immaginario nel quale proiettavamo delle esperienze che avremmo voluto fare nella nostra vita. E poi, se guardiamo bene, ci è capitato di dover faticare, di dover navigare contro i venti per recuperare qualcosa che era già stato nostro. E ci è capitato, soprattutto nella nostra vita, di capire, i più illuminati fanno questo. Che le nevrosi, le crisi di panico, che le grandi cadute, che i grandi abbandoni, che quel buio oscuro del pozzo in cui cade Batman quando è bambino, eh? Quando è bambino, quando gli uccidono i genitori. E voi dite, ma i miei genitori non sono mai stati ucciti? Non è vero, non è vero, perché arriva un momento nella nostra vita in cui noi ci sentiamo che i genitori stanno morendo, che non potranno proteggerci più, perché se sentiamo che fanno, che possono fare questo, allora non stiamo scegliendo l'individuazione, lo capite? Quando una donna di 80 anni mi chiama la mia mamma, la mia mamma, ho perso la mia mamma. A quanto aveva la tua mamma? 96 anni. Ragazzi miei, ragazzi miei, non hai mai capito che cos'è l'individuazione? Quanto la vuoi tenere qui? Quanto le vuoi impedire di raggiungere ciò per cui ha vissuto tutta la vita? La vita dà anche una stanchezza del vivere. E allora quando ci troviamo persi come Batman nel suo pozzo da solo, gli hanno ucciso i genitori e lo aggrediscono i pipistrelli. Pensate, non è un film comico, è proprio così. Cosa può esserci di peggio? E lui è terrorizzato da questi uccelli, scusate, da questi mammiferi volanti, soppreso, faccio anche errori di biologia, di zoologia, da questi elementi volanti che ovviamente sono cattivi pensieri, ovviamente sono pensieri oscuri che entrano a volare nei meandri del suo inconscio. E questo lo fa sentire perso. Rimarrà con lui soltanto il maggiordomo. Lui è miliardario, grazie a Dio, no? Ha un grande patrimonio, ecco l'eredità della famiglia. Ha un grande patrimonio ma è solo, si accorge di essere solo e chi di noi non si è sentito veramente solo? Fino a quando dopo una serie di grandi peripezie, no? Adesso non vi voglio fare la storia di Batman, vi voglio far capire che cosa si cela lì dietro, perché a volte anche nelle modalità più popolari, nelle comunicazioni più popolari si celano delle verità che appartengono a tutti. Che cosa accade? Che un bel giorno da adulto scopre che il volo dei pipistrelli gli può suggerire qualcosa. Guardate, c'è un bellissimo film fatto non molti anni fa che è Batman Begins, no? Begins, gli inizi di Batman. Quando lui a un certo punto consapevole del fatto che la stessa paura che lo domina, che lo abita, che lo tormenta da una vita, quello che potremmo dire una zoofobia, ecco, che poi ce ne possono essere di tantissimi tipi, per cui domani sicuramente qualcuno mi chiamerà e mi dice, ma perché a me le cimici fanno questo effetto? Ragazzi, bastamente, senti che cosa ti sto dicendo. Lo stesso pipistrello diventa il suggeritore del talento e Batman trasforma una nevrosi in un talento senza limiti. E perché mi piace Batman? Perché non ha poteri soprannaturali, è umano, è umano come noi, deve solamente allenarsi, deve acuire i sensi, deve acuire lo sguardo, l'intuito, deve lavorare su quello, su ciò che gli è stato dato dalla natura. E senza quell'esperienza, senza aver perso i genitori, senza aver dovuto gestire una ricchezza di cui non aveva chiesto la responsabilità e che non sapeva gestire, con una semplice guida costante, presente, ma mai genitoriale, che è quella del maggiordomo, lui arriva a fare di quella terribile ansia, di quella fobia vera e propria, il centro della propria azione per salvare il mondo. Quindi ognuno di noi è Batman, lo capite? Nel momento in cui uno esce dalla dimensione nevrotica diventa una potenza dal punto di vista dell'aiuto del mondo perché quell'energia sprecata per il proprio ego che è illuso di essere se stesso è buttata via, è buttata via. Non buttatela via così. Incominciate a capire che quella grande forza che vi sconquassa, che a volte vi dà anche delle rappresentazioni corporee, come per esempio questo herpes che è così diffuso in questo periodo, ma come mai c'è un'epidemia di herpes? Ma non sarà che avranno messo dei... no, non hanno messo niente, ce la stiamo soltanto facendo sotto, è chiaro? Ce la stiamo facendo sotto perché ce l'ha anche gente che non ha fatto niente, né la malattia né altro. Quindi perché è così diffuso in questo periodo? Perché siamo molto infiammati, lo eravamo anche nel 18. Non capite che tutto ciò che riguarda l'umano è inevitabilmente psicosomatico, è inevitabilmente spirituale, animico, è inevitabilmente sottile ed è lì la gerarchia, è sopra. Allora, voi dovete capire che noi siamo tutti Batman quando però ci concediamo il lusso di aprire le braccia e farci volare addosso i pipistrelli. Qualcuno adesso cambierà canale perché gli farà impressione questa immagine, invece a me piace da impazzire perché la nostra paura è la nostra forza, la nostra paura è il nostro talento, la nostra paura è la leva con la quale possiamo sollevare il mondo e trasformarlo e non ce lo concediamo perché siamo distratti da stupidaggini. Ok, scusate ma lo dovevo dire. Stupidaggini. Non è che questo periodo non può richiedere un impegno nella ricerca interiore perché ci sono troppi problemi all'esterno, è il contrario, proprio perché ci sono troppi problemi all'esterno è necessaria ed è obbligatoria una costante ricerca interiore. Quindi che uno sia sensibile o meno al volo dei pipistrelli o che uno lo sia al 100% perché gli altri lo sono poverini solo al 50% non mi interessa. I pipistrelli vanno accolti, vanno abbracciati, i pensieri neri vanno accolti, vanno abbracciati, altrimenti non c'è processo di individuazione. Non c'è. Uno crede di sapere chi è. Lo vedete bene per esempio nella, che ne so, in questo periodo alcuni aspetti della classe politica ovviamente non è che mi piacciono da impazzire. Non vedete quelle belle cravate, quelle belle cravate, tutte quelle belle cravate, come se da quel nodino passasse la verità che arriva dal cuore. Se invece fosse impedita la verità che arriva dal cuore e se invece fosse rallentata la verità che arriva dal cuore sarebbe un bel pasticcio. Io sono un vecchio ex hippie degli anni 60, per cui dei primi anni 70, per cui quando vedo quelle belle cravate mi viene inevitabilmente in mente una canzone dei Led Zeppelin che si chiamava Gallows Pole sul terzo dei Led Zeppelin dove c'era una frase di Aleister Crowley in copertina. So che questo piacerà a Giorgio Rossi questa affermazione. Vi rimando al testo di quella canzone che è un tradizionale inglese poi trascritto ed eseguito dai Led Zeppelin in modo sublime. Chiudo qua proprio per dirvi che spesso quell'orpello del nostro abbigliamento ci racconta tante cose che ricordano la modalità con cui vengono concepite certe dinamiche comunicazionali tra il potere e le persone comuni come noi. Bene, ma quello che mi interessa dire è che la verità è dentro di noi. Ecco perché mi piace la terapia ermetica collettiva perché adesso per esempio stiamo lavorando molto sui sogni. Adesso lo so che a un certo punto qualcuno arriverà a dire il sogno migliore, io ho sognato che avevo la Bellucci sulle gambe. Cosa vuol dire? Ecco non è questo, capite? Non esiste una teoria generale del sogno attraverso la quale si possa scrivere un dizionario visionario, attraverso una conoscenza scientifica arrivare alla causa e all'effetto, al desiderio attraverso gli oggetti del sogno. No, non è così facile. Ci vuole un po' di talento che nasce anche in questo caso dalla sofferenza. E voi direte perché ci stai parlando di questo? Perché l'esperienza di cui io vi parlo spesso al 50% non è esperienza clinica, è esperienza umana. Per esempio per l'herpes, perché vi ho detto questa cosa? Perché mio papà che è stato un uomo straordinariamente attivo nella propria vita, al quale ho voluto un bene infinito, anche se l'ho visto molto meno di quanto avrei voluto vederlo, ma forse anche questo è stato un bel dono, perché mi ha regalato in parte quando era necessaria la sua assenza e me la sono dovuta cavare e ha fatto un gran bene e lo benedico per questo. Mio padre era un uomo che era entrato come scrivacchino in una grandissima dita e alla fine è diventato direttore tecnico di quella dita e ha lavorato per moltissimi anni. Quindi all'inizio aveva a malapena di che campare e quando sono nato io e alla fine cenava con Umberto Eco, Enzo Biagi, Geno Pampaloni, capite? Era arrivato. Quando lui firmò le proprie dimissioni venne da me e dice sì però guarda meno male mi sono tolto tutte queste preoccupazioni, non ce la facevo più, dovevo prendere l'aereo una volta alla settimana e se la raccontava, capisce? Come facciamo noi? Se la raccontava. In realtà era molto identificato col proprio ego. Di che cosa si sarebbe ammalato di lì a poco? Di tiroide e non l'avrebbe mai curata, ma soprattutto gli venne un herpes zoster incredibile e non aveva mai sofferto di herpes per tutta la vita. E in quel periodo non c'era il coronavirus, si ascoltavano i Duran Duran, che erano molto meglio del coronavirus. Allora, avete capito che siamo degli psicosomatici tutti? Che la psiche interviene comunque perché è il pennello che dipinge sulla tavolozza del nostro cuore e del nostro corpo. È così, è così. Quindi io vi sto raccontando esperienze di vita. Allora, quando noi ci troviamo alla sera nella terapia ermetica collettiva, mi capita a volte di sentire dei sogni, ma io in quel momento magari do una restituzione molto onesta, molto istintiva, anche alla luce magari delle quintalate di volumi che mi sono letto in tema di psicanalisi, ma a parte questo non sono quelli che mi danno quella capacità in quel momento. Me la dà qualcuno da sopra quando lo ringrazio, lo ringrazio proprio perché alcune cose non dipendono da me e poi perché probabilmente in qualche modo ho vissuto le stesse cose che mi sta raccontando quella donna in quel momento. Tengo per me alcune intuizioni, per esempio voi non lo sapete, ma ci sono dei sogni che sono riferibili agli organi, che già nel sogno è come se direbbe un cinese, forse i cinesi questa cosa la sanno fin troppo bene perché la loro politica no, la loro storia è un po' contraddittoria, ma la loro medicina è insuperabile, insuperabile come la loro spiritualità, insuperabile. E attraverso per esempio certe immagini mi appare un fegato, mi appare una cistifellia che non sono malati, è per questo che non lo dico perché altrimenti domani nonostante siamo sulla libreria Cavour, nonostante non prendiamo farmaci tradizionali, solo omeopatia e fitoterapia, però domani vogliamo gli esami del sangue, vogliamo vedere se abbiamo almeno 12 di emoglobina, perché se abbiamo 11 è già un disastro, capite come siamo messi male? E allora dietro ai sogni spesso un ascensore che sale, che rompe il tetto, che si proietta nel cielo e che ci dà quella sensazione di aver raggiunto delle altezze che non avevamo previsto perché noi volevamo fermarci al quinto, al sesto, al decimo piano, invece abbiamo sfondato il tetto e siamo andati in alto, oppure quando vogliamo la nostra automobile che vola. Ma non è forse una sopravvalutazione, non è forse un momento in cui capire se ciò a cui abbiamo ambito, se le nostre ambizioni o se una certa richiesta che ci è stata fatta nell'ambito lavorativo o nell'ambito umano, familiare, non sia al di là delle nostre possibilità, ma non delle possibilità mentali o di talento, della nostra voglia, la nostra volontà di dare risposta. Ma l'ego sappiamo bene che si nutre di successi e si nutre di sopravvalutazioni. Peccato che il corpo fisico è con i piedi per terra, lui è umile perché è proprio humus, perché lui è adamà, lui è terra. Che se ne fa delle sopravvalutazioni, della lusinga? E allora il sogno ci porta a capire che quella proiezione verso l'alto ci farà sentire inadeguati al volo perché non siamo preparati al volo, non siamo preparati al volo. Così quando le pastoie di una spiaggia piena di fango o di una strada piena di fango faranno in modo di rallentare i nostri piedi nella corsa, nel sogno? Non ci vedete un fegato e una cistifellea che in qualche modo non hanno la caparbietà di liberarsi dalle pastoie della vita? Eh ma le hanno date a me quelle pastoie? No, la vita ha il potere che tu gli concedi e allora vuol dire che c'è ancora l'ego lì dietro che vuole che tu attraversi territori impervi, labirinti senza via d'uscita, momenti in cui siamo a un telefono e continuiamo a sbagliare nel sogno il numero di telefono perché non riusciamo a comunicare. Perché non riusciamo a comunicare? Perché non stiamo comunicando adeguatamente e sufficientemente onestamente con noi stessi. A che serve comunicare con gli altri se la prima comunicazione interrotta è quella interiore e quindi dobbiamo mettere a distanza tutto ciò che crediamo di sapere e incominciare ad annullarci. Questo è il momento dell'annullamento, questo non è il momento della consolidazione del sapere, è il momento in cui tutto va messo in discussione e sarà soltanto nell'umiltà del silenzio dei pensieri, nell'umiltà del silenzio del metabolismo, quindi anche mangiando molto meno, nell'umiltà dell'assenza di turbamenti chimici, alcol, fisici, distrazioni, desideri impropri, che arriveranno le risposte su quello che veramente l'anima vuole da noi stessi. I sogni in cui siamo nel labirinto, i sogni in cui la città continua a proporci delle strade in cui non troviamo la via d'uscita, dobbiamo raggiungere, siamo in ritardo, non è forse il vostro intestino? Il labirinto non è il vostro intestino? Vogliamo vedere qual è la funzione intestinale delle persone che hanno questo sogno ricorrente? Ma sapete perché? Ma perché sapete quante volte io ho fatto questi sogni? Il sogno dell'ascensore sapete quando lo facevo? Adesso qualche collega dirà avresti fatto meglio a sognare ancora quella cosa. Lo facevo quando mi stavo laureando in medicina, perché se voi vedete la mia faccia nella fotografia quando sul Lago Maggiore mio padre ha prenotato un ristorante e abbiamo fatto la festa di laurea ed eravamo poi al limite una dozzina, quindicine di persone, io, i parenti, tutti, io ero pallido come belfagor. E sapete perché? Mi stavano dando in mano una licenza e un potere che non mi sentivo di avere. E caspita, non me lo sentivo. Ed ecco che in quei giorni volavo con le automobili, cadevo nel volo e pregavo che l'impatto fosse attutito da qualcosa, da una mano santa. volavo con un deltaplano e un vento mi portava molto più in alto, spariva la città, spariva il pianeta ed io ero nel buio del cielo. Certo. E questo era il fatto che probabilmente quel passaggio era molto difficile tra aver studiato da medico, aver preso la laurea e l'esame di stato e poi sentirsi, sentirsi un medico. È un'altra cosa. Quello avviene dagli anni. Una certa conoscenza, per parafrasare i Beatles, si misura in anni, in esperienza, in odori. Ricordo che un grande maestro di chirurgia un giorno mi disse quando ti capita un'urgenza in pronto soccorso tu devi agire in fretta ma non devi avere fretta. Hai poco tempo ma non devi avere fretta. Fantastico. Chi ti dice oggi una frase così? Chi ti dà una goccia di anima invece che darti l'adrenalina? Repito. Chi, se non un saggio. Ok. Allora, cari miei, stiamo vivendo un momento difficile. Cerchiamo di evitare di lasciare la mente a se stessa perché lo renderà ancora più difficile. Ancora più difficile. Solo le vostre anime possono sapere come uscire da questo periodo. Quindi non andate a cercare, come posso dire, come un saggio in un pagliaio delle verità su voi stessi che non potete raggiungere fin tanto che non avete azzerato dentro di voi l'analisi ipercritica, fin tanto che non avete governato la parola, fin tanto che non avete abbandonato. È utile la diagnosi ma voi dovete abbandonarla al buio perché il corpo non se ne fa niente della diagnosi. Il corpo sa quello che deve fare e quindi lasceremo al corpo e a chi lo sa fare qualcosa per il corpo quello che deve fare. Noi non controlliamo niente. Il nostro compito è sintonia sull'anima. Fiducia, fiducia nel prossimo, molta e soprattutto in coloro che lavorano per noi e ovviamente ci saranno dei momenti in cui sarà molto chiaro di chi non avere fiducia. È un dato di fatto, ma arriva solo dal vuoto la pacificata visione di chi avere fiducia e di chi non avere fiducia. Non dalla mente, non dalla valutazione dei dati, non dalle liti, non dalle statistiche. Viene da un asse interiore che sa la verità da sempre. Quello che produce i sogni che sanno la verità molti mesi in anticipo rispetto a quando si manifesta. Ok? Io spero di esservi stato utile. Sono un po' tornato indietro dal punto di vista didattico perché sono ritornato un po' di più alla clinica, ma ogni tanto il mio compito è anche un po' questo. Di capire che il disastro che ci sta avvolgendo in questo momento non è solo colpa degli altri e non è solo colpa della storia, ma in buona parte è merito anche nostro e delle nostre distrazioni. Quindi prima che tutto venga lasciato a se stesso noi possiamo perlomeno riequilibrare ogni singola cellula di questo corpo che si chiama umanità. E la più importante che abbiamo a disposizione è la nostra, questa. Ok? Io spero di esservi stato utile. Vi abbraccio forte. Magari qualche volta vi aspetto alla terapia ermetica collettiva. Grazie. Ogni mercoledì dalle 19 alle 21 sono attivi i gruppi online di terapia ermetica collettiva condotti dal dottor Raffaele Fiore. Per info e prenotazioni rimandiamo al link che si trova sotto al video nell'info box o nel sito di Accademia di Psicomedicina dell'Anima. Tutti i video seminari di Raffaele Fiore nella versione integrale sono ora disponibili nel nostro shopping online o nei link in descrizione.